Grazie Presidente. Deputato Rampelli, lei scopre di recente un problema che da mesi il Governo sta affrontando, che si è assunto la responsabilità di risolvere, come più volte ho detto agli incontri con le rappresentanti e i rappresentanti dei nidi e delle materne, abbiamo fatto in modo che gli enti locali abbiano la possibilità di risolvere questo problema. E lo abbiamo fatto, abbiamo risolto il problema prima della data nella quale lei ha depositato questo question time perché con un provvedimento d'urgenza assunto dal Governo il 20 giugno abbiamo dato la possibilità agli enti locali di fare dei piani di assunzione straordinaria su base triennale, questo per far sì che il prossimo anno scolastico abbia un avvio regolare e soprattutto che si possano assicurare i livelli formativi che servono. La risposta è una risposta ai bisogni prima di tutto delle famiglie che nei nidi e nei nidi efficienti hanno un presidio necessario proprio per la loro vita quotidiana e per il sostegno dei loro bambini. Ma è una risposta, quella che si trova nella norma appunto approvata dal Consiglio dei Ministri che serve anche a valorizzare le tante, tantissime professionalità che si sono create in questi anni e che sono state vittime di un cattivo reclutamento degli enti locali perché sono state contrattualizzate con contratti a tempi determinati. Io credo che questa risposta sia la risposta seria e concreta che il Governo si era impegnato a dare e che ha dato ed è l'esempio, come è doveroso che sia, della collaborazione istituzionale che ci deve essere con gli altri livelli di Governo.